88 indagini di polizia giudiziaria e 1.128 accertamenti che hanno consentito di segnalare all'autorità giudiziaria 58 persone con un arresto e rilevare circa 9 milioni e mezzo di euro di contributi illecitamente richiesti o percepiti su un totale di circa 40 milioni di euro di appalti controllati e sequestri per un valore totale di circa 2 milioni e 600 mila euro con confische di 1 milione 6 con un danno erariale totale accertato pari a circa 12 milioni di euro sono questi i dati snocciolati dalla guardia di finanza per l'anno 2017 per i primi cinque mesi del 2018 relativamente all'azione di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla ricostruzione sia pubblica che privata a seguito del sisma del 6 aprile del 2009 e di quello del gennaio dello scorso anno i risultati sono stati resi noti in occasione della cerimonia per il 244esimo anniversario della fondazione del corpo della guardia di finanza che si è celebrato nella caserma di pescara intitolata al vice brigadiere ermanno parete sede del reparto operativo aereo navale e del nucleo di polizia economico e finanziaria la cerimonia ha avuto inizio con la deposizione da parte del comandante regionale per l'abruzzo generale di brigata flavio agnello di una corona di fiori nei pressi della targa commemorativa intitolata al vice brigadiere parete successivamente il generale ha deposto una corona di fiori sul monumento eretto in onore delle 29 vittime della tragedia di rigopiano